Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sulla Liguria. Poco infatti da segnalare, la ventilazione sarà debole del tutto assente con Marligure calmo o poco mosso. Nel dettaglio ora la provincia d'Imperia, sole assoluto, protagonista, ha al più qualche velatura in transito. Situazione analoga anche sulla provincia di Savona, con cieli sereni o al più velati, le temperature massime lieve ripresa di qualche grado, con clima nel complesso anche gradevole, punte che riusciranno a sfiorare i 20 gradi. Nel dettaglio ora la provincia di Genova, ampi spazi di cielo sereno, al più qualche velatura solo in transito, le temperature massime raggiungeranno i 18-19 gradi. Sul Tigulio splendere al sole, nel corso della giornata di venerdì, la ventilazione come dicevo debole o del tutto assente, con Marligure infatti calmo o poco mosso. Nel dettaglio ora lo spezzino, ampi spazi soleggiati, con qualche velatura di tanto in tanto solo in transito, specialmente nella prima parte del giorno. Ci attende un sabato ancora con ampi spazi soleggiati sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà insistere sul ponente, ma senza precipitazioni e le temperature non subiranno particolari variazioni. Nel corso della giornata di domenica aumenterà l'instabilità sul Levante, con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Sul ponente invece ancora ampi spazi di cielo sereno. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.